Immagini forti che abbiamo scelto di mostrare per far capire cosa può accadere a causa dell'imprudenza dei proprietari dei cani. Lui è Gnappo, meticcio di piccola taglia, che in via Giordano all'Infernetto è stato aggredito con violenza da un simil pastore tedesco a spasso senza guinzaglio. Gnappo è stato morso in più punti e strattonato. Fortunatamente non ci ha rimesso la vita, ma le ferite sono gravi. Questo non è un episodio isolato. Troppe volte e con troppa frequenza accade che i cani non vengono portati a guinzaglio o che non si presti abbastanza attenzione quando si aprono i cancelli delle abitazioni. Molte persone, magari uscendo con la macchina, lasciano il cancello aperto e fanno uscire i cani. Quindi a volte succede che magari c'è uno scontro diretto tra cani. Può essere un pericolo. C'è una mala gestione spesso del cancello perché mi è capitato con lei, tanto tanto, io adesso ho il cane femmina. Però avendo avuto per 18 anni il cane maschio, l'ho salvato un paio di volte. Coloro che hanno casa con il cancello, il giardino, eccetera, bisogna che abbiano veramente tanta attenzione perché se no è un guaio. La scusa? Il mio cane buono non giustifica atteggiamenti scorretti da parte dei proprietari, che in questo modo non tutelano gli animali, ma neanche le altre persone che a volte possono rimetterci nel tentativo di sedare una lite tra cani. Io ho il cane buono, ma il cane fuori deve andare al guinzaglio. Tutti i cani sono buoni, quello che spesso non funziona sono i padroni, però il cane sta libero nelle aree adeguate. Insomma, il cane deve stare al guinzaglio. Lo tengo sempre al guinzaglio, per mia prudenza, per proteggere lei, proteggere le persone. Non tutti però hanno questa consapevolezza? Non tutti hanno questa consapevolezza, questo senso di responsabilità. Il Comune di Roma ha stilato un regolamento per la detenzione degli animali, che non lascia spazio all'improvvisazione. I cani di proprietà circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico sono condotti con guinzaglio museruola. I soggetti di indola aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi. Insomma, le regole ci sono e andrebbero solo rispettate. Ci vorrebbe più attenzione senza dubbio? Ci vorrebbe più senso civico. Il cane è una cosa meravigliosa, però è una responsabilità. È un altro figlio, cioè a livello proprio di impegno e quindi se te lo prendi, te lo curi come si deve.